Oggi Giuseppe Aleotti, segretario del PD, qui cittadino di Cava dei Tirreni, questa conferenza con Raffaele Fiorillo, per chi abbiamo compreso, questi dieci punti sono importanti, non basta riciclare per avere rifiuti zero? Non basta riciclare, bisogna soprattutto far sì che riciclare diventi lo slogan fondamentale, rifiuti zero 2020, che è il nostro programma sui rifiuti, il primo punto di quello che sarà il nostro programma elettorale, si propone di limitare le materie non riutilizzabili al 15%, Cava nel corso di questi anni, dal 2007 in poi, quindi da un'amministrazione di centro-sinistra che governava dal 2006 al 2010, è riuscita a raggiungere percentuali di raccolta differenziata che toccano punti del 65-66%, questi sono i dati arrivati al 2013, per noi non basta, questo è stato un primo step fondamentale, ora bisogna andare oltre, bisogna adottare la strategia rifiuti zero, che già da vent'anni tanti comuni nel mondo, in Europa e ultimamente anche in Italia, tra cui anche il comune di Maiori in provincia di Salerno, utilizzano. La strategia rifiuti zero permetterà di toccare picchi di raccolta differenziata che noi attualmente non ancora abbiamo raggiunto e soprattutto permetterà ai cavesi di avere un sensibile sgravo sulla bolletta della TARES. Uno dei dieci punti potrebbe essere quello del riuso, ricordiamo il vetro quando noi rendevamo il vetro, eravamo ragazzi, insomma. Sì, il riutilizzo è la base della strategia rifiuti zero, bisogna soprattutto fare un lavoro culturale sulla gente per far capire che ci sono tante cose che possono essere utilizzate e che non vanno accantonate e soprattutto che bisogna arrivare soprattutto a utilizzare soltanto cose che possiamo riutilizzare. Quindi evitare proprio gli acquisti di cose che non possono essere smaltite. Questo ovviamente deve partecipare tutta la comunità, non può essere solamente l'amministrazione questa presente, quella futura, insomma, un coinvolgimento dell'associazione, del volontariato. Come dicevo prima, io lancio anche un appello a tutti gli altri partiti e al mondo delle associazioni affinché noi possiamo attivare subito un comitato permanente, un comitato rifiuti zero per iniziare appunto questo lavoro culturale, perché soltanto da questo lavoro culturale, soltanto da questa base può avere un buon risultato la strategia rifiuti zero. La raccolta differenziata a Cava ormai da qualche anno è sul 65%, quindi questo significa che i cittadini hanno accettato pienamente il sistema e sono ormai sensibili alla raccolta differenziata. Occorre adesso fare il salto di qualità ulteriore, puntare molto a iniziative promosse dall'amministrazione ma anche dalle scuole, dalla città, dalle associazioni che mirano alla riduzione della produzione del rifiuto, che deve diventare la battaglia principale oggi. Ridurre i rifiuti significa avere acquisti attenti e quindi evitare di acquistare prodotti che non siano riciclabili o compostabili, ma soprattutto pensare anche al riuso di oggetti che possono ancora avere una propria vita attraverso mercatini di libero scambio o altre iniziative analoghe, ma puntare soprattutto al fatto che si costruisca una coscienza diffusa che ormai il tema dei rifiuti non è solo risolvibile con la raccolta differenziata, ma bisogna puntare con decisione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al riuso e alla possibilità in qualche modo di prolungare la vita degli oggetti attraverso mille iniziative che nella città si possono costruire e su cui noi vogliamo impegnarci nei prossimi mesi.